Sì, come è stato detto e anche qui in quest'aula e comunque tutti i dati di analisi ci dicono situazioni veramente drammatiche per i nostri allevatori. Purtroppo è una situazione che non è nata ultimamente ma che si potrà da tantissimi anni con sempre più aziende che chiudono e questo prezzo del latte che continua ad abbassarsi. Per noi questa mozione è condivisibile anche alla luce della modifica che ha proposto proprio il relatore. Noi da sempre, da due anni che siamo qui, diciamo che comunque l'agricoltura lombarda deve cambiare passo e deve fare quella cosa che non ha fondamentalmente mai fatto purtroppo secondo noi in tutti questi anni cioè mettere l'agricoltore al centro, al centro di tutto. Lo abbiamo sentito, il prezzo del latte non lo fanno gli agricoltori cioè quelli che proprio lo producono, che dovrebbero essere loro appunto a dire quanto vale il mio prodotto. Quindi pertanto noi, ripeto, condividiamo questa mozione ma vogliamo che a questo tavolo regionale se ci sarà, visto appunto come andrà quello nazionale, la regione Lombardia faccia di tutto con tutto il suo peso politico per mettere l'allevatore, l'agricoltore al centro di tutto e col suo peso politico contrasti il peso economico e contrattuale che hanno le grandi industrie di trasformazione che abbiamo anche sentito, che possono essere anche multinazionali come la Lactalis. E' ora che la regione Lombardia, con tutto il suo peso politico, si schieri apertamente in questo tavolo regionale per cui condividiamo questa mozione ma lanciamo questo appello all'assessore. Grazie Presidente. Grazie a tutti.